Family Lifestyle E con noi per premiere la categoria Family Lifestyle il General Manager IAB Italia Fabiano Lazzarini Buonasera, grazie per essere qui Ecco la busta Che vogliamo fare? La vogliamo aprire subito? Ma no Ecco, vediamo prima le nomination Allora, vediamo le nomination per la categoria Family Lifestyle Nivea4man.it, Silver Project Challenge The Orange Show, Snydero ErnestoMeda.it Teoco.it E quindi il dottor Lazzarini premia anche Il secondo vincitore Il secondo vincitore, ricordiamo, sono due primi posti in questo caso And the winner is Snydero, The Orange Show Un ex-equo con Teoco Pizzini Un ex-equo, quindi Vediamo intanto il video Il secondo vincitore, ricordiamo che Aku Nugasan e il worse Dungkin il primo vincitore, ricordiamo, è straordinario Per il secondo vincitore, Gesù Al primo posto ex equo Teuco Guzzini La web agency e la web salute Ritira la scultura e il diploma Il project manager Cristiano Gallinelli Tutto quanto Anche quello Qua lo so divide a casa Faccia lei Allora ci mettiamo a fare la foto No Veramente giriamolo Giriamolo Polpo di scena È riservato E non era organizzata la cosa Non l'avevo vista